Un pezzo di album delle figurine in carcere o ai domiciliari è il male del pallone italiano si chiama di nuovo calcio scommesse. Tutto parte a novembre quando un giocatore della Cremonese, campionato di Lega Pro, ha un incidente in auto dopo la partita contro la Paganese. Nel sangue gli trovano tracce di benzo di azepine, un calmante. Anche altri cinque giocatori erano stati drogati. Ma da chi? Partono le intercettazioni, si scopre il sabotaggio. Era stato Marco Paoloni, il portiere della Cremonese, che aveva sciolto la sostanza nell'acqua delle borracce. Il suo obiettivo era far perdere la partita alla propria squadra. Da oggi è in carcere. L'inchiesta della Mobile di Cremona arriva subito a un giro di scommesse. Una trentina di partite tra Serie B e Lega Pro sono state truccate da un'organizzazione che coinvolge anche altri giocatori. Ai domiciliari è finito l'ex nazionale Beppe Signori, ottavo marcatore di sempre in Serie A. A Como è stato arrestato Mauro Bressan, ex centrocampista di Fiorentina e Genoa. Poi ci sono il difensore dell'Ascoli Vittorio Micolucci, il centrocampista Vincenzo Sommese e Gianfranco Parlato, ex giocatore di Serie B e C, ora collaboratore del Viareggio. Ma tra gli indagati a piede libero c'è anche il giocatore Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura, in passato già coinvolto in un'inchiesta simile. Oltre a lui anche il capitano dell'Atalanta, Cristiano Doni. Sono 16 gli arrestati, 28 le persone indagate. Per il giudice Guido Salvini costituivano un associato a soldi, truffando lo sport.